Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono all'antichissima Fiera delle Grazie, in provincia di Mantova. Questa fiera esiste dal 1425. Questo borgo è uno dei più belli d'Italia. Qui c'è un santuario pieno di misteri e luogo anche di miracoli. Vi invito ad approfondire la sua storia. Anni fa fu anche visitato da Papa Giovanni Paolo II, dove poi si spostò all'esterno per una preghiera rivolta ai 150 madonnari, giunti da ogni parte del mondo per disegnare la loro arte sul sagrato del santuario e questo avviene ogni anno dal 1973. Oggi voglio mostrarvi queste fantastiche opere dall'ultima edizione 2022. I madonnari sono artisti di strada. Sono chiamati così perché eseguono disegni di immagini sacre e principalmente raffigurano madonne. eseguono questi disegni con gessi sulla piazza antistante al santuario. Il lavoro pittorico inizia il pomeriggio del 14 agosto per finire nel pomeriggio del giorno dopo, quando la giuria dovrà decidere l'invincitore. ci sono tre categorie maestro madonnaro, madonnaro qualificato, madonnaro semplice. la piazza antistante al santuario. il lavoro pittorico inizia il pomeriggio del 24 agosto. il lavoro pittorico inizia il pomeriggio del 20 agosto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.